Un comportamento narcisistico e manipolatorio può portare alla distruzione della tua vita e può essere veramente difficile da riconoscere, soprattutto quando arriva da qualcuno di cui ti fidi. Per cui, in questo video, imparerai a riconoscere 5 segnali per capire se qualcuno si sta comportando così con te. Puoi anche utilizzarli come degli indicatori del tuo cambiamento verso tendenze narcisistiche, così da poterle eliminare prima di danneggiare le tue relazioni. Useremo come esempio di questo video le reazioni di Logan Paul nei confronti delle affermazioni negative che Coffeezilla ha fatto sul suo progetto cripto. Non ho intenzione di fare un'analisi completa di ciò che è accaduto, ma lascio dei link in descrizione per approfondire. E ci tengo a sottolineare che dopo la reazione negativa di YouTube, Logan, alla fine, ha offerto delle rassicurazioni concrete ai suoi compratori. Bisogna riconoscerglielo. Una cosa che voglio precisare è che non sto diagnosticando un disordine di personalità narcisista a nessuno. Spesso abbiamo tutti degli atteggiamenti narcisisti, per cui, invece di concentrarti su Logan come unità, sarebbe molto più utile chiederti se effettivamente questo comportamento potrebbe essere anche parte della tua vita. Il primo segnale da tenere d'occhio è la trasformazione continua delle critiche ricevute. Questo succede quando non riconosciamo bene il livello di critica che ci viene fatta, e questo permette così di non affrontarla direttamente. Per esempio, questo è il modo in cui Logan percepisce le affermazioni fatte da Coffey Zilla. Ascoltalo ora, mentre spiega come immagina il modo in cui lo vedono alcuni suoi haters. Nessuna delle due interpretazioni però si avvicina minimamente alle effettive critiche che Coffey ha fatto a Logan, le quali erano molto più specifiche e limitate. Logan Paul specificamente ha ricevuto milioni di dollari su questo gioco, sulla promessa della tecnologia che non ha mai costruito, che il suo team non ha mai costruito. E non ha mai risultato la scelta, ma per sbagliare gli sviluppatori che non erano pagati. Come nella maggior parte dei casi di trasformazioni delle critiche, Logan ha reso questa critica molto più estrema di quanto fosse realmente, parlando di super cattivi e estremizzando il tutto. A causa del narcisismo, spesso, può capitare di interpretare le critiche in modo peggiore rispetto alla realtà. Perché, uno, la critica estrema è più semplice da girare, e due, proteggiamo il nostro stesso senso di critica perché le riceviamo da altri, e tre, perché ci aiuta a rafforzare il nostro status come vittima invece di carnefici. Per cui, se qualcuno continua a rispondere ai dettagli delle tue argomentazioni, invece che alla vera critica, sii consapevole del fatto che potrebbe essere che stia cercando di manipolarti. In questi casi ti consiglio di tenere gli occhi aperti per il nostro secondo segnale, passare più tempo parlando dei suoi sentimenti invece che dei tuoi, quando sei tu a lamentarti. Per esempio, guarda come, invece di parlare di ciò che hanno perso i suoi fan, il che è una parte importante delle critiche di Coffeezilla, Logan si concentra invece sulle sue perdite personali. Per essere chiaro, è assolutamente corretto difendersi e condividere i tuoi sentimenti quando rispondi alle critiche, specialmente se ti prendi anche il tempo di empatizzare con i sentimenti degli altri. Ed è appunto quello che fa il co-conduttore di Logan in modo impulsivo e ripetutamente durante il podcast in cui affrontano queste accuse. Ma Logan non l'ha fatto a sua volta e persino i piccoli cenni che ha rivolto al suo pubblico sono stati subito rivolti verso i suoi sentimenti. Questo succede perché a causa del narcisismo, le persone sperimentano i propri sentimenti come se fossero più importanti di quegli altrui. Infatti, faticano a dare importanza ai sentimenti degli altri, se non per notare come quelle emozioni possano avere a che fare con loro. Nella tua vita, per capire se qualcuno ti sta davvero ascoltando o ti sta solo manipolando, puoi farti una domanda. Hanno riflesso i miei sentimenti verso di me in un modo che mi fa sentire compreso? O hanno solo detto di capirmi per poi andare avanti e parlare dei propri sentimenti? Questa è anche un'ottima domanda da fare a te stesso, così che tu non finisca con l'allontanare le persone a cui vuoi bene quando sei infastidito dalle critiche. Ora, se qualcuno tende verso il narcisismo, quando sposta l'attenzione su se stesso, probabilmente è lì che mostrerà il terzo segnale. Ripeterà continuamente di avere buone intenzioni, senza però prendersi il tempo di riflettere sulle proprie motivazioni profonde. Guarda come lo fa Logan. Può malapena ammettere che forse CryptoZoo era un trucco per fare soldi, ma solo nel senso in cui lo sono tutte le altre attività. In una situazione in cui è evidente che sono state prese delle decisioni sbagliate, se la persona non riesce a identificare nulla tranne le proprie motivazioni, probabilmente hai a che fare con un narcisista. Ovviamente tutti noi abbiamo delle motivazioni personali, specialmente se abbiamo dato vita a un'azienda Crypto durante la fase più alta dell'attenzione in questo settore. Il problema è che con il narcisismo non riusciamo a riconoscere le nostre motivazioni personali, perché distruggerebbero la nostra immagine positiva che abbiamo di noi stessi. Questo è strettamente legato al nostro quarto punto, che è un meccanismo di difesa tipico di personalità narcisiste. Proiettare cattiveria nei confronti di coloro che infastidiscono l'immagine personale che abbiamo di noi stessi. La proiezione è un meccanismo di difesa in cui qualcuno pone i propri sentimenti o caratteristiche non volute su qualcun altro, invece di ammetterli e lavorare su se stessi. Nel caso di Logan, lui proietta l'avarizia e l'opportunismo verso Coffeezilla. La proiezione è un argomento molto importante, potrebbe anche essere l'argomento di un intero video, per cui fammi sapere nei commenti se ti interesserebbe. Per ora, quello che devi tenere a mente è che è davvero importante avere un gruppo di persone di cui ti fidi, che ti faranno sapere quando qualcuno proietta su di te, e che ti possa far presente quando inevitabilmente tu lo farai ad altri. Lo facciamo tutti. Ora, il quinto segnale a cui prestare attenzione è la rabbia narcisistica, che è una corrente della rabbia che scoppia quando l'immagine narcisistica e positiva che abbiamo di noi, e di cui parliamo, è minacciata. Puoi vederlo bene qui. E ovviamente è molto evidente in questi casi in cui ci sono delle vere e proprie minacce. La cosa importante da capire è che solo perché qualcuno assume un tono aggressivo, non significa che tu abbia sbagliato a farglielo notare. Infatti, la rabbia, di fronte a delle critiche contenute, è uno dei segnali più forti in assoluto di narcisismo. Significa che hai toccato un tasto dolente e minacciato di portare alla luce qualcosa che l'altro non vuole mostrare. Ecco da dove arriva la rabbia, come ultimo tentativo per proteggere la propria immagine personale. E questo ci porta ad un punto finale molto importante. Il narcisismo, in contrario a ciò che si penserebbe, non è amore eccessivo per se stessi. In realtà è una mancanza di amore per se stessi. Il narcisista diventa ossessionato con la propria immagine perché è il modo più sicuro che ha per sentirsi bene, considerato quanto poco amore personale ha di se stesso. Ha bisogno di una conferma esterna o di potere per compensare il dolore del proprio mondo interno. Inoltre, una delle cose che ti renderanno più suscettibile alla manipolazione di un narcisista è proprio la mancanza di amor proprio. Se non hai amor proprio, non darai abbastanza fiducia al tuo intuito e ti chiederai continuamente se non sei abbastanza gentile con una persona che ti sta semplicemente manipolando. Il che significa che la cosa migliore che puoi fare, sia per proteggerti dai narcisisti, sia per assicurarti di non diventarne uno a tua volta, è lavorare sul tuo amore per te stesso. L'ho già detto anche in altri video, ma cose come il respiro guidato, la meditazione, la terapia e molto altro possono essere un grosso aiuto, oltre ovviamente ad avere un gruppo di amici di cui ti fidi profondamente affinché ti stiano vicino quando sei più insicuro. Ora, se vuoi lavorare per costruire quel gruppo con sicurezza, potresti voler dare un'occhiata al nostro corso, la Carisma University. È un programma guidato passo per passo di 30 giorni, che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza, come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno, e avrai anche a disposizione dell'action guide, così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale, con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderei di entrare nella Carisma University, avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrai andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche, ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice Prima di tutto ho amato il tuo corso, ho imparato diverse cose, ad esempio la lezione sui filtri nel modulo delle conversazioni, quella lezione ha cambiato completamente la mia vita. Mi piaceva una ragazza da un anno ormai, ma non ci avevo dato peso, perché temevo fosse troppo carina per me. Dopo le tue lezioni ci ho provato e ora usciamo insieme. La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice Ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice Mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio.